Ciao a tutti amici, sono Gianni Mark e bentornati sul mio canale. Allora, vuole di colpo le mie province e quelle del mio vassallo perché sono un claim, ma sono claim normali o claim permanenti? Il proprio problema di questi claim permanenti è che per l'IA sono più importanti di te, della tua alleanza con te player umano. La Francia va in età d'oro, Dietrich III von Salm. Allora Livonia non mi chiedeva Le di alte 72 Ok che sono questi, padre born, ok e miglioro anche con te non lega lei successo in war between Italy and Spain il che, diciamolo pure, non sarebbe male di disitro Varmela caso belli di protezione senti, è buona, vai qua lavonia, ok 45.000, senti, voi andate qua allora, chi è il capo nemico? l'imperatore, benissimo ai su ai su 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 vai su e marci forzare e vai qua e convertiamo l'ultima città ok allora, una cosa che dovrebbe esserci è la cosa di smettere di essere il defender of the faith ah io sono lo state Russia guadagna 2 di assolutismo e facciamo questo dell'autonomical down meno 50% allora ordine livoniano non posso fare ma allora però posso fare l'influenza su claim guarantze ok allora senti, su 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 dietri c'è il terzo buon salm ah è su scusa un attimo tecnologia militare ok fino a win ok benissimo dai su che abbiamo finalmente quasi vinto dai su quanto ci vuole altri 8 ok ok riga che vogliono non c'è tu ogni tono è andata vale ok ok potrei accettare ma ma gli diminuirebbe il trust però scusa allora alleanza influenza proclama garanzia ok innoia ok allora cosa posso fare il mercante e con espionaggi ideas però sono ancora indietro con dry dock ah ecco no 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 scusa mi stai facendo dire che a causa di un ma sei scemo mo mi stai dando rot out corruption scusa mi hai davvero vai su via 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 ok tu te ne vai e tu attacca l'oro track su succession wall dai su a brava grazie 5 e 4 e 5 e 8 l'oro è dai su coschi sempre lo scusa posso fare questo e levarme dai cosiddetti unified army command oh bene a quanto siamo arrivati ho garantito economy action and shift dai su fa fai pace c'è ah hanno scusa io ho qua quanti cannoni ho vabbè dobbiamo vedere se convertito gli eti di fiume potere iniziativo ok 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 fermo e posso vassalizzare l'oro ok ma certo russia prenditi 300 fichissimi marinai svedesi rochi 20 20 sì tu vai qua vai qua e vai qua ok bene pestali come ora quante quante relazioni ho con loro e li annetto e poi chi altro devo annettere dei militanti vassali forse Kiev di Kiev di Kiev dai su relazioni ok dai su oh allora difesa la nostra provincia siamo stati in guerra espansioni aggressivi hai un claim su di noi siete vicini di una religione nostra avversaria ok stanno a più 4 e non dovrebbero essere più oltraggiati ok e sono semplicemente le ali ok posso fare oh e ora abbiamo anche più più paure ottimo perfetto ora allora Francia facciamo un bel siphoning com no 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 allora ok ok allora dov'è Kiev allora scusate la breve interruzione Kiev ah no mettiamoli nella tesoreria mantiene il diplomatico fisso 19 19 19 19 io sto 19 18 19 vabbè dai idea bonus vicini ah 20 lui domanda ma tu ti facesti o fallitrare no perché hai più di cento di sviluppo 20 K te later go email Twitter 보� Twitter Twitter Vin ת Twitter Twitter 20 allora quindi ok allora volume action send drift Ivan Rudikovic ah è filmato E ora tu vai qua a Mutapa, Convertection, perché? Perché sono leati di loro, spagnolo, sono di 2,5, e nel frattempo io costruisco qua, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ok, e vanno qua. Allora, qua, avendo sia figlio che erede grandi, adulti, vero, da filtrato, in modo, occo, Ok, dai, su. Perché se riesco a mettere fuori combattimento loro, a 24 anni, ed è contro la Norvegia. Ah, ha dei tuoi soggetti, a più di 100, però, Ok, dai, su. Allora, in provera, no, facciamo questo. L'agricoltura è georgiana. Non posso avere più di totculture. Ah, accepte l'evoluzione. Yeah, I am, ah, ok. Privat, trade free, nobility, integration policy, Trevisi, commercio in glass, diplomatica e tecnologica, costa, commercio in vino. Ok, allora, devo fare di nuovo, ecco. Ah, ok, tolgo l'alleanza dell'Etiopia. Cioè, anche per questo serve, Ah, no, aspetta. Mutapa, Sofala, ok. Ok, Miami è un mio imperatore. Dai, su. Ok, Annessi e Palermo. Vi è riconversita. Buona, vi dai, su. Allora, armate. Protecting trading, trade node, Genoa. Ancora. Haken. Vabbè, vuole... La torinia. Mulhouse. Ah, Haken. 8. 8. Ah, è tu. Allora. Colonies. Ok. Ligudian. Una rivolta a Kiev. Una rivolta a Kiev. Una rivolta a Kiev. Una rivolta a Kiev. Arratica. Unione. O приехale. Una rivolta a Kiev. Una rivolta a Kiev. Inizial. Fic��itaria. Western Figility e e e e e e e e intolerante 5 colori attivi e diventa più 11 ma ma con la tolleranza scompare tutto Bill of Rights Sancho de Aragon Modal of Armies ok 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 Altre 14 unità, dai tu che ce la faccio. Ok perfetto, vinto, ah ok e abbiamo convertito anche il palermo. Cabilia Bell, trasmette per andare se è già abbassato. Grab, no. Guglian Heritage, Ragusa. No, la proposta dei pastoriche è anche più facile da fare. Ok. Ok. Allora, successione disputata. Ha avuto più 20 miglia. Quanti anni ha? 0. 26 anni. Un differente. Vabbè. Ecolibione, Reverso, Hill. Allora Free Trade Enterprise. Ok. Ok. Disciplina più 2,2. Vabbè, incoltura e duration. Amministrativi e affari centri. 137%. Oh, e ci siamo pappati anche via. Qui si sono? L'Italia, 5. L'Italia. L'Italia, 5. Ok. Armata di Memel, seconda esercito. Scusa, ma allora, queste no, ah, le sta costruendo qua, credo. Grazie. Capacità di governo, più 2,50, ah, è su. Che ci rendiamo anche, ah, è su, giugno, ok. Ok, manufatturie, manufatturie, ok. Ok, failure cannon, troppe relazioni diplomatiche, ok. Ok, risolvi, risolvi. Ok, risolvi, risolvi. No, mi spiace. Ok, risolvi. Ah, è su. No, il cannoncino. E però, con questa dichiarazione di guerra, ci salutiamo. Ma, quanti cacchio sono? Vabbè, ah, assofala e ammuta, pensiamo dopo. Per me l'importante è battere l'oro, gli spagnoli. Quella miniera d'oro è solo un di più, nient'altro. Ah, ho, ho solo io. E poi... Eh, eh. Eh, no. Ah, non ce la fanno anche da soli. Oh, e con questa battaglia, anzi, con questa tecnologia fatta, ci salutiamo, ciao.